Assolutamente Salvo, io penso che abbiamo anche, oltre che avere una grande responsabilità, noi abbiamo anche un grande privilegio, che è quello di parlare, di tradurre, di comunicare la sensibilità di questi artisti e non è proprio una cosa da poco, non è solo dire ha usato il rosso invece del rosa o il giallo al posto dell'arancione, parlare della vostra arte e parlare dell'arte in generale è un trasmettere un qualche cosa che va al di là di una facciata, è un qualche cosa che scende in profondità, è quel male che si trasforma in una perla e sappiamo le perle quanto poi diventano belle al collo, quindi il nostro è un compito difficilissimo, è una responsabilità grande e noi dobbiamo continuare ad essere portavoce di questa ricchezza che grazie agli artisti è senza fine, continua, va avanti perché paradossalmente da una notte in cui si dorme poco può nascere una poesia, da una giornata iniziata male può nascere un quadro, da un dolore può nascere una scultura, da tutte queste piccole cose che nella quotidianità possono sembrare quasi secondarie, in realtà poi nasce la ricchezza e la bellezza di quello che poi effettivamente siamo.